Allora io mi incammino intanto da quella parte perché vado a presentare un gruppo di giovani la loro età media va dai 23 ai 36 anni sono insieme per la passione quindi per la musica ma sono anche amici nella vita hanno scritto una canzone molto bella che io ho ascoltato Memoria e loro sono i Club 03 bene arrivati ragazzi già schierati allora mi dirigo verso di Marco allora Marco raccontami un po' la vostra storia voi vi ispirate al proprio come genere vi avvicinate molto al pop rock e quando vi ho chiesto c'è una fonte di ispirazione mi ha detto sì cerchiamo di avvicinarci un po' ai nomadi e soprattutto di raccontare nelle nostre canzoni delle tematiche sociali che possono essere la vita quotidiana di tutti i giorni ma nella fattispecie in questo pezzo però raccontate un po' una storia d'amore dei sentimenti, delle memorie un po' anni 80 quindi torniamo un po' indietro nel tempo molto retro molto retro molto vintage come mai proprio questa scelta? guarda Paola il brano Memoria è il primo brano che è nato da questa formazione è un viaggio nei vicoli del nostro paese della nostra vita quotidiana in più c'è questa storia che racchiude tutto il brano è l'insieme della storia e della nostra vita reale di quello che accade insomma di quello che accade giornalmente vogliamo dire anche il vostro paese di origine che è San Giovanni Carico che si trova in provincia di Frosinone quindi questo e tanto altro accade lì ma è un po' una sensazione nella quale tutti possono ritrovarsi c'è un bel processo di identificazione non mi guardate così no sono assopito che sa tutte queste nozioni ma io dico ogni volta ma come si è una wikipedia Paola wikipedia non parli delle cose fammi una domanda delle tu grazie club03 però se mi permettete ragazzi io vorrei anche fare un saluto a chi ha creato anche il nostro contatto e chi ha fatto anche da Trade Union e quindi salutare la mia amica Paola Bortone organizzatrice di tanti eventi di tante serate con la quale insieme trasforriamo sempre un'estate molto molto intensa con tante sfilate di moda quindi grazie anche a te Paola e un po' la vostra produttrice porta fortuna club03 memoria avete memoria voi? io poca però ascoltando loro me ne tornerà ci proviamo grazie a tutti difficile dimenticare quando avevo 16 anni e seduti al monumento guardavo i ragazzi più grandi provavo ad imitarli iniziando dai loro panni ascoltavano persone e le chiamavano morandi ed io ragazzo ingenuo senza alcun tipo di memoria provavo a cambiare e a trovare la mia strada provavo a cambiare e a trovare la mia storia provavo a cambiare questa vita insensata poi ho detto ma con il solito vicetto che chi non ha non appartiene qua cantiamo vediamo sbagliamo e alla fine esageriamo cantiamo vediamo sbagliamo e alla fine esageriamo e poi prendevo la strada afferrata seguendo una ragazza matura e gli occhi non andavano via dalla cabina sempre occupata salivo la strada del cielo perdendomi in quelle curve le stelle stavano lì e noi su quelle panchine non avevamo paura e scendevo con le mani sulle tue il mio ciao un tuo bacio muoio dentro ma un solito vicetto e chi non ha non appartiene qua cantiamo beviamo sbagliamo e alla fine esageriamo cantiamo beviamo sbagliamo e alla fine esageriamo e alla fine e alla fine Oggi di un ragazzo di trent'anni Guardo spesso verso il cielo E ricordo quei momenti Oggi ho capito che il passato Non va mai dimenticato Ogni errore che ho commesso Me lo sono tatuato Oggi io ritorno a quell'amore Che non era mai finito Io ritorno a quell'amore Che non era mai esistito Bravi! Club 03 Memoria Quindi teniamo molto bene in mente Questa canzone bellissima Grazie a tutti! Grazie a tutti!